Ciao, sono Ilaria Tramontozzi, sono laureata in lettere e oggi sono una bibliotecaria e una mediatrice culturale. Appena uscito dal liceo classico ero spinta inizialmente solo da una forte passione per la lettura e per la scrittura. La sola promessa che mi ero fatta però era quella di seguire sempre ciò che più mi piaceva. Quando poi ho iniziato a frequentare i corsi mi sono veramente resa conto che la mia passione sarebbe potuta diventare un lavoro. Tra i vari laboratori che ho frequentato quello che mi ha colpito di più è quello di scrittura creativa grazie al quale ho potuto effettivamente mettere in pratica tutto quello che avevo imparato. Il ricordo più bello che ho è il primo giorno di corso di laurea magistrale quando appena entrati in aula il professore la prima cosa che ci ha detto è stata da questo momento in poi non siete più studenti ma studiosi. In quel momento io ho capito che stavo percorrendo la strada giusta e che potevo diventare quello che avevo sempre voluto essere. Lavoro con bambini che hanno difficoltà linguistiche e di apprendimento. Mi relaziono ogni giorno con persone e realtà diverse e posso mettere a frutto tutte le mie competenze. Adesso posso veramente dire che la mia passione è diventata il mio lavoro. è un'espetta il mio lavoro. Grazie a tutti.